Corrispondenza cinematografica dai nostri operatori dislocati sul fronte di combattimento in Africa settentrionale. Autoofficine a ridosso della linea del fuoco nella zona di Elme Kivi rimettono in efficienza autoveicoli inglesi catturati. Rancieri verso la prima linea. Ogni giorno il postino giunge puntualmente al fronte di combattimento. Un singolare ufficio postale in pieno deserto. Notizie da casa. La parentesi di calma è finita. Gli osservatori avanzati scoprono all'orizzonte i primi segni di un attacco nemico. Batterie di ogni calibro aprono subito il fuoco. Le colonne nemiche sono tempestate da una grandine di proiettili. a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.